Ciao a tutti, rieccoci al nostro approfondimento su Grease Pencil. Abbiamo visto i materiali, abbiamo visto molto dello strumento Draw, adesso possiamo anche mettere insieme un po' di queste conoscenze che abbiamo e arrivare a un livello unteriore. Nel frattempo impariamo anche delle scorciatoie da tastiera. Abbiamo imparato per esempio il pannello che si preme con la N per aprire, io adesso lo apro semplicemente per mettervi a schermo i tasti che premerò. Quindi adesso ho attivato questo speciale add-on che nella versione base di Blender non è presente e qui in basso a sinistra appaiono i tasti che premo, quindi vedete ogni volta che premo qualcosa appaiono e scompagnano. Ricordatevi che i tasti in Blender dipendono anche da dove si trova il vostro mouse. In questo momento il mio mouse è qui nella finestra del disegno e quindi se premo N si apre il menu nella finestra del disegno. Se però mi spostassi qua giù in questa finestrella qui con il Dope Sheet, se premo N qui si apre il sottomenu ma si apre qua giù. Quindi attenzione appunto a dove premiamo i tasti, dove ci troviamo col mouse quando premiamo certi tasti, non tutti ovviamente. Allora, un altro che possiamo imparare subito e che è interessante è CTRL SPAZIO. CTRL SPAZIO non fa altro che mettere la finestra nella quale ci troviamo a tutto schermo. Se lo facessi appunto come prima nel Dope Sheet mi ritroverai questa a tutto schermo. Se mi trovo col mouse quassù mi ritrovo questa. Noi se lo facciamo quando siamo qua possiamo mettere a tutto schermo la finestra dove disegnare che è molto più comodo. Alla stessa maniera esiste anche CTRL ALT SPAZIO. Fa la stessa cosa rimuovendo proprio tutto quanto e trasformando l'intero schermo in una tela ancora più comodo. Quindi ricordatevi CTRL SPAZIO e rimane un po' tutto quanto. CTRL ALT SPAZIO e la finestra va a occupare tutto quanto e scompaiono anche proprio tutte le palette. Quindi qua proprio dovete conoscere a memoria le scorciatoie. Allora torniamo sempre indietro CTRL ALT SPAZIO. Abbiamo imparato con la B che possiamo trascinare un rettangolo se abbiamo lo strumento draw e cancellare tutto quanto. Vediamo un altro paio di scorciatoie utili prima di passare ad altre cose. Allora prima di tutto abbiamo visto la B adesso torno. Se ho fatto un disegno con lo strumento draw e adesso prendo anche un marker più grosso per vedere un po' la differenza. Se premo CTRL mentre dipingo lo strumento draw si trasforma in una gomma immediatamente e quindi questo è molto molto pratico. Se sto disegnando appunto con una matita e quindi sto facendo degli schizzi magari prendo adesso Pencil Soft sto facendo uno schizzo del mio disegno di quello che voglio realizzare. Nel momento in cui volesse ammorbidire qualche linea basta che premo il tasto CTRL e si trasforma in una gomma. Quindi questo è molto comodo. Premo la F, aumento le dimensioni, se lo faccio la gomma rimane della stessa dimensione. Si tratta della gomma Eraser Soft. Provo qui a cambiare le dimensioni e la metto a 100 per esempio. Torno alla matita, metto la matita di nuovo sottile. Ora se premo CTRL la mia gomma è più grande. Quindi vedete carica Eraser Soft. Quindi voi le impostazioni che mettete qui ve le ritrovate quando premete CTRL con lo strumento draw. Un'altra cosa utile è, volendo, il tasto ALT prima di cominciare a disegnare con lo strumento draw. Con la matita soft non si nota tanto. Prendo per esempio la matita d'inchiostro, questa che fa una linea unita. Se premo ALT posso tracciare delle linee in orizzontale o in verticale. Quindi se lo premo prima di cominciare a disegnare la linea avrà lo spessore impostato qui, 60. Se invece prima comincio a disegnare poi premo ALT avrà lo spessore che avevo nell'ultimo istante in cui ho mollato il mouse. Quindi rimpicciolisco, premo ALT senza e vedete posso regolare. Quindi ALT ci permette di bloccare. L'altro modificatore utile è lo SHIFT. Guardate io faccio un segno, se però lo faccio premendo lo SHIFT vedete che c'è questo piccolo trattino. Io non trascino direttamente il mio segno ma trascino questo strano guinzaglio. È lazy mouse se qualcuno di voi lo ha già visto, se avete ZBrush o altri programmi. È una funzione che vi permette di fare, se devo fare una curva a mano libera, è molto difficile non tremolare. Soprattutto dipende dalla qualità anche della tavoletta grafica che avete. Se invece premete maiuscolo, punto SHIFT, riuscite a tracciare delle belle curve con molta più facilità. Andiamo a vedere un po' tutte le altre impostazioni. Ci siamo fermati finora RADIUS e STRENGTH, ma qui ne abbiamo molte altre. Andiamo a dare un'occhiata a quelle più importanti. Come al solito le ritroviamo anche qua giù. Qualsiasi segno che noi tracciamo con GREASE PENCIL è costituito da punti. In questo momento noi non li vediamo, questa è una linea. Scegliamo per esempio come materiale per disegnare invece di black, scegliamo black dots. Scegliendo black dots vediamo i punti dei quali è costituita la linea. Quindi se io mi muovo lentamente la linea sarà costituita da molti punti. Se traccio il segno velocemente ne avrò di meno. Questi punti poi se io scegliessi il materiale invece di black dots, il materiale black, le vedrei unite. Però sono gli stessi. Quindi con black dots semplicemente evidenziamo un attimo la posizione di questi punti. Perché molte delle impostazioni saranno più comprensibili se capiamo questa cosa dei punti. Abbiamo visto con i materiali che abbiamo la possibilità di scegliere i vari colori dello stroke eccetera. Adesso black dots per esempio, se io adesso cambio e scelgo il blu, adesso non si nota molto a schermo, andiamo a scegliere un colore molto diverso. Ecco, rosso. Vedete che ho cambiato. Notate questa cosa. Qua c'è mode type dots. Se invece scelgo il black e basta, mode type line. Questo non l'abbiamo visto l'altra volta. Lo vediamo adesso. Cosa significa mode type line o dot? Posso scegliere. Se scelgo dots, adesso lo sto scegliendo per il colore black e quindi vedete le linee che avevo tracciato con quel materiale cambiano e all'improvviso sono fatte da punti anche quelle. Se le rimetto sotto line, tornano linee. Esiste anche l'opzione boxes che è identica a dots, solo che ha dei quadrati. Adesso zoomo avanti così potete vedere meglio. Con boxes il mio segno è fatto da dei quadrati. Con dots è fatto da dei cerchietti. Con line i punti sono uniti. Ecco quindi che cominciamo a capire che tutte queste linee sono costituite da punti. Se io adesso scelgo la modalità dots e magari andiamo a scegliere anche un colore giusto per vedere bene le differenze. Ora se mi sposto nelle impostazioni del pennello posso capire un po' meglio tutto quanto. Allora andiamo un attimo. Adesso la dimensione del pennello è 60 ma è dipendente dalla pressione. Momentaneamente disabilito la dipendenza della pressione. Così adesso tutti i punti sono della stessa grandezza e sono anche abbastanza grandi da poterli vedere. Quando dicevo quando trascino a linea molto velocemente ci sono pochi punti. Quando la trascino più lentamente ce ne sono molti di più. Se vado piano praticamente ci sono così tanti punti che quasi diventa una linea unita. Questo può essere regolato dal primo valore input samples. È la quantità di punti che vengono letti dalla vostra penna. Quindi adesso con input samples a 10 che è il valore massimo viene letta la maggior parte dei punti della penna. Se noi lo portiamo al minimo posso semplicemente trascinare qui. In questo momento i punti letti dalla penna sono pochi. Cancello tutto e vediamo subito la differenza. Adesso traccio una riga con input samples a 0. Veloce. Eccola qui. Metto input samples di nuovo a 10 e traccio una linea con la stessa velocità. Vedete che ci sono più punti? Vengono letti più punti? Poi ovviamente dipende dalla vostra penna. Comunque questo è un segno con input samples a 10, questo è un segno con input samples a 0. Quindi la quantità di punti. Questo regola, Active Smooth, regola quanto questi punti vengono ammorbiditi e uniformati tra di loro. Quindi se lo porto a 0, quello che traccio è esattamente quello che ottengo. C'è un piccolo cambiamento che vedete. Rimuovo per un attimo questa funzione così ci capiamo meglio. Ora quello che disegno è esattamente uguale a quello che c'è sullo schermo. Se porto lo smooth al massimo quello che disegno viene modificato mentre lo disegno per cercare di essere più morbido. Ovviamente quindi vedete un po' come un lazy mouse. Questo unito al lazy mouse diventa morbidissimo. Quindi in pratica più abbassate questo smooth e anche se alziamo adesso con 10 e 1 quello che traccio è morbidissimo e precisissimo. Il problema è che diventa anche lento lo strumento quindi è più lento a leggere ovviamente. Se noi abbassiamo i samples e teniamo lo smooth alto abbiamo meno punti ma belli ammorbiditi tra loro. Con lo smooth a 0 i punti invece sono se mi muovo in maniera, se vibro, se il mio segno vibra avrò tutte le ondine. Se appunto vado a 1 e vibro viene aggiustato. Quindi ricordatevi questo che è molto comodo per migliorare la qualità del segno. Angle e factor le abbiamo già visti l'altra volta. In pratica alzando factor in questo momento con i punti si nota poco però insomma è una questione di con angle a 0 in pratica significa che i segni verticali saranno più sottili e quelli orizzontali saranno più più grossi e di quanto lo stabiliamo qua. Questo border opacity factor è presente solo quando il materiale ha dots oppure boxes. se metto line vedete sono tornate tutte linee ma non ho più questi che sono ingrigiti. Quindi ricordatevi adesso rimetto dots. Torno qui. Allora border opacity factor è una sfumatura che si può assegnare ai cerchi o ai quadrati. Quindi se la abbasso a 0 adesso quando trascino i miei pallini saranno sfumati ed è così che funziona lo strumento aerografo. Questo strumento aerografo come vedete è già impostato con un border opacity factor a 0.2 e se andiamo a vedere il materiale usa il materiale black dots. È bloccato al materiale black dots. Guardate se scelgo ink pen che la avevamo prima posso cambiare il materiale qua facilmente. Mentre quando vado e quando vado su airbrush c'è solo black dots e non riesco vedete che tutto ingrigito non riesco a cambiarlo perché questo strumento dipende da questo materiale. Vengono legati vengono legati da questo segno di spunta. Se la tolgo ora posso per airbrush selezionare un materiale diverso per esempio appunto red ma non si comporterà più allo stesso modo. È comunque un effetto carino però non è più la stessa cosa. Se scelgo un altro materiale adesso si comporta in maniera diversa. Quindi ricordatevi che è possibile legare siccome alcune caratteristiche stanno nel pennello altre caratteristiche stanno nel materiale a volte come nel caso di airbrush il materiale è legato al pennello. In questo modo quando cambio pennello cambio anche materiale. Faccio un nuovo documento da capo in maniera da ripristinare tutti i tool alla loro posizione originale. Ho la matita. Andiamo a vedere com'è costituita. Advanced l'abbiamo visto sotto stroke. Sotto stroke ho queste tre opzioni post processing, randomize e stabilize. Adesso post processing smooth è un in pratica ammorbidisce. Lo riporto a 1 perché lo vediate meglio e iterations a 3 che è il massimo. Non fa altro che ammorbidire il segno dopo aver disegnato. Quindi è simile a questo active smooth solo che viene effettuato dopo. Vedete il segno cambia dopo. Quei invece smooth thickness si riferisce semplicemente allo spessore e infatti su questa matita è a 1. Ciò vuol dire che anche se io cambio molto lo spessore poi, quindi premo e mollo sulla tastiera, poi questo 1 finirà per ammorbidire tutto quanto. Se lo metto a 0 i miei cambi di morbidezza, di durezza del segno rimangono più intatti. Questo è un numero di suddivisioni nelle quali viene diviso il segno. Lasciamolo un attimo da parte. In pratica crea più punti, mettiamola così e si possono anche sparpagliare. Simplify significa che la curva alla fine viene semplificata. Se voi alzate, è un numero che deve rimanere molto piccolo, se lo portiamo già a 0,1 vedrete che il vostro segno viene fatto veramente da pochissimi punti. Se siete veloci poi addirittura si vedono degli spigoli. Quindi se lo porto a dei numeri altissimi, il disegno non mantiene più alcuna curva, diventano tutte delle stecche. Quindi di base a 0,0,2 di solito, se lo rimpiccioliamo il segno non viene affatto semplificato e tutti i punti letti appartengono alla curva. Un minimo di semplificazione è meglio metterla per evitare di avere decine di punti. Quest'altro è molto interessante, Trim Stroke Hands, perché quando io disegno spesso può accadere che abbia dei bordi che si chiudono male. Se non mi piace posso premere questo e il segno viene automaticamente bloccato negli incroci. Vedete? Se faccio un incrocio sullo stesso segno, non su segni diversi, quindi faccio questo quadrato, sono uscito un po', mollo, viene tagliato, faccio un cerchio e mi incrocio male, viene tagliato. Non vale con segni successivi, quindi è solo sul singolo segno. Sul singolo segno viene rimosso quello che eventualmente sborda quando mi incrocio. Molto utile. Randomize fa un po' il contrario di Post Processing, di Smooth, nel senso che aggiunge della casualità. Se lo premo, ovviamente adesso è tutto a zero, però posso per esempio dare un'elevata casualità alla pressione e vedete che il mio segno diventa variegato, è così che funziona Ink Pen Rough. Vedete Ink Pen Rough ha pressure a 1 ed è per quello che il segno è così ammorbidito. Torniamo qui, questo lo porto giù, Strength cambia questo valore, quindi se lo porto a 1 avrò un segno la cui opacità cambia di continuo. UV riguarda le texture che vengono posizionate lungo la linea, non l'abbiamo ancora visto. Jitter lo fa sulla posizione dei punti e quindi il mio segno diventa tutto tremolante. Ovviamente può stare insieme a Post Processing, perché nel senso che il segno potrebbe venire prima con un elevato Smooth ammorbidito e dopo potrebbe anche essere casualizzato, per cui l'effetto in pratica si cancella uno con l'altro, quindi attenzione ovviamente che certe cose a metterle tutte insieme non hanno molto senso. Stabilize è quello che abbiamo visto un attimo fa, se lo premo è il Lazy Mouse che abbiamo visto prima, solo che è fisso e quindi volendo posso anche variare il valore, se metto per esempio 1000 la stecca sarà lunghissima e quindi avrò un segno molto più morbido ma anche molto più lento. Quindi regolate questo ed è quello che posso ottenere con il maiuscolo. La cosa interessante è che se è premuto, premendo il maiuscolo lo tolgo, quindi se voi lo assegnate fisso al vostro strumento potete comunque con il maiuscolo farne a meno per certi segni. Queste sono le curve di risposta alla pressione della tavoletta e quindi anche qua dipendono un po' da quello che volete ottenere dallo strumento e da com'è la vostra mano. Come appunto questa matita sensibile alla pressione, se io regolo questa sensibilità in questo modo devo premere molto prima di arrivare al massimo, se la regolo in quest'altra direzione nel giro di pochissimo premendo poco, quando premo poco finisco già subito con valori alti. Se avete giochichiato un po' con questa curva, l'avete cambiata in maniera strampalata, potete sempre andare qui e scegliere reset curve e torna dove era. Questo fa la stessa cosa per l'intensità, adesso è molto difficile portare l'intensità alta, mettendolo qua invece l'intensità va in alto con una semplice pressione, posso anche fare all'incontrario, potrei girare la curva all'incontrario, se io la giro così significa che quando sono leggero il segno è molto pesante e quando schiaccio si alleggerisce, quindi possiamo fare quello che vogliamo con queste curve. Questa è la curva che regola questo valore qui, perché si può regolare con la pressione, il jitter che abbiamo visto, questo della quantità di casualità, se tolgo la pressione è fisso, se gli metto la pressione cambia e più premo, più aumenta l'effetto casuale. Quindi queste sono impostazioni che vi consiglio assolutamente di analizzare, perché con queste potete trasformare gli strumenti in qualcosa di completamente nuovo, potete partire dalla matita e ottenere qualcosa di completamente diverso. Questa lezione è particolarmente lunga, la divido in due parti per praticità, quindi nella prossima vedremo prima di tutto come salvare questi pennelli in delle impostazioni che poi possiamo ritrovare e riutilizzare. Per intanto vi saluto e alla prossima!